E il Catanzaro fa il suo, in attesa di vedere ciò che farà domani il Crotone al Partenio, certamente per gli squali partita molto tosta. Oggi il Catanzaro fa il suo contro una squadra comunque, sì, inferiore, sì, in difficoltà, però che aveva fame di punti salvezza, quindi tre punti importanti, 4-0 anche oggi, con Catanzaro che come poi spesso accade di Laga nel secondo tempo, e dopo, ecco, questa è una caratteristica un po' di questo Catanzaro, i primi 30 minuti fatica un po' diciamo a sbloccare la partita, poi quando si scioglie l'avversario calano anche un po' di intensità, la squadra riesce ad esprimersi al meglio e a fare il secondo, il terzo e il quarto gol. Vittoria molto importante anche per mettere pressione nel Crotone, che quindi sarà di scena nel posticipo. Ora siamo a più 11 e continua questa cavalcata verso la Serie B. Adesso si presenta la trasferta di Viterbo, una trasferta comunque non facile, perché si affronterà una squadra che come le due precedentemente affrontate è in zona play-out, ma avrà assolutamente fame, poi soprattutto tra le mura amiche di centrare punti che sarebbero importantissimi per la salvezza, quindi partita da prendere con le pinze, assolutamente, e un Catanzaro che comunque quest'oggi fa il suo dovere, ripeto, un bel 4-0, tutti contenti e felici oggi. Interessante a livello di formazione due, novità se vogliamo, anzi in realtà tre. Vabbè, la prima è il test Brignola a tutta fascia. Lo stesso Vivalini ha sempre detto in conferenza che secondo lui c'è un giocatore duttile che può giocare in diversi ruoli, per carità, però lui lo vedeva più esterno a destra, tanto che infatti nei momenti in cui ha parlato della non cessione di Rolando, ha detto che lì a destra siamo in quattro, ovvero Situm, Brignola, Cazzeris e Rolando, con questi due che purtroppo, credo, giocheranno veramente a spizziche e bocconi, a meno che poi non si vinca il campionato in scioltezza, con diverse giornate d'anticipo, e quindi si può magari provare a far giocare qualcuno che ha giocato meno nel finale di stagione. Però, interessante aver provato Brignola lì, perché è un giocatore comunque, ecco, è molto, cioè è come giocare, ed è come giocare, con una sorta di 3-3-4 poi, perché abbiamo Van de Putte e Brignola che comunque si spendono in fase difensiva, ma sono due attaccanti, parliamoci chiaro. Quindi, con Sunas, che poi fa molto la fase offensiva, è un modulo abbastanza, non dico spregiudicato, non è il modulo spregiudicato, sono i calciatori e le caratteristiche dei calciatori, che lo rendono tale, però, finora sta pagando, quindi poco da dire. Certo, in Serie B non si potrà giocare così, questo poco, ma sicuro, in Serie B servirà molto più equilibrio, perché giocare in Serie B con Brignola e Van de Putte, Sunas, tutti i suoi giocatori, no, perdere le partite 7-0 ogni volta, perché no. Però, ecco, in questo campionato si può tranquillamente fare, vista la differenza tecnico-tattica con le altre squadre. Poi Pontisso titolare, al posto di Ghion, che oggi non c'era, e Curcio, al posto di Biasci, che il ministro l'ha voluto premiare, visto che negli ultimi tempi sta facendo abbastanza bene. Un Catanzaro che sblocca comunque il match nel primo tempo, con Scognamino al 28esimo, poi di Laga nel finale, doppiata di Iemmelo in 5 minuti, e 4-0 dell'entrato Cianci all'86esimo. Quindi, squadra che può gioire, continuare a sorridere, e speriamo di dare ancora continuità nel match di Viterbi. A questo punto mi fermo, vi saluto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie.